oggi ragazzi si parla di stilismo questa è una giacca disegnata da me da johnny schiavo sono io designer e soprattutto stilista di moda questa è una giacca bellissima ok questa è una giacca addirittura vediamo qui c'è il contro luce non riesco a inquadrare comunque c'è scritto lanolini made in italy sartoria lanolini ok bene questa giacca è un panno marrone con bottoni in pelle non so se vi ricordate quelli dell'ode un po passata come giacca no questo è molto anni 80 taglio classico un po così all'endelon per capirci il discorso qual è che mi aveva stancato non mi piaceva più aveva bisogno di un'altra vita però prima di rovinare una giacca così costosa da 500 euro perché è un bel classico da uomo adulto l'ho voluta portare su una tendenza minima chic giovanile scusate che un po il telefono mi sta facendo dei scherzi forse sono dei colori così forti che non riesce non riesce a metterli a fuoco mamma mia sono come i miei quadri non riescono a metterli a fuoco perché sono così sconvolgenti con questa mia energia quando faccio le cose anche il telefono va in tilt ma vi faccio un esempio su cui sono nel mio nella mia atelier nel mio studio di rovigo ogni tanto sono a milano qui vedete o i miei quadri vedete che anche qui il telefono mi va a a volte quando mi avvicino se mi avvicino a questo il quadro il telefono scoppia cioè non riesce a metterlo a fuoco questo questa camminata sul mare di queste due scarpe che camminano su questo questo è un materassino da mare tra l'altro è la c'è una zacca questo ma poi questo si gonfia con la pompa idraulica perché un materassino da mare si gonfiava perché col tempo a vent'anni questo quadro si è un po rovinato poi abbiamo queste tele fatte peccato che non c'è luce oggi dai lo faccio domani queste tele addirittura questa è una tela io sono molto molto futurista sperimentale anche se è già stato fatto tutto nell'arte questa è una tela in pvc questo è un pannello in sono quei pannelli tamburati che si usano per anche questo a dieci anni dentro hanno del pulistirolo espanso due pellicole esterne e sopra ci stampavano anche delle foto questo è un quadro fantastico questo un tavolino questo un tavolino non so se si vede ho tolto cioè intanto l'ho dipinto sul tavolino 15 anni fa non mi ricordo e poi ho tolto le gambe delle quattro dei quattro lati proprio un tavolo questo ero a parigi e vabbè ero uno studio alla cité dell'università e mi è venuta questa idea questa follia ho tolto le gambe l'ho appeso ho messo i due ganci poi l'ho finito ma c'è un gran lavoro qua e questo è un tavolo da ristorante appeso al muro senza gambe ok ho sempre recuperato i materiali proprio purtroppo per la mia estrazione culturale artistica le scuole l'accademia che ho fatto dopo la mia fortuna è che sono anche nobile sono di origine nobile e questa è una lampada che ho fatto io cuscita a mano messo le perle comunque senza torniamo oggi sono così frenetico di finire quella giacca stupenda non sono più capace di far su le sigarette si spengono sempre ma sì perché poi abitando in francia in olanda tanti anni fa ho imparato sempre a rullare a rullare a farmi le sigarette qui la situazione è molto triste ormai qui in quartiere perché sono tutti vecchi purtroppo qua giovani gli italiani non fanno figli è un casino qua che bello che bello quell'albero guardate che bello qua nel mio studio ci sono queste lampade anni 80 ve le ricordate che giravano con la luce perché le ho messe qui in terrazza perché i colombi arrivano vedendo questa che gira si allontanano perché sono un po ormai colombi sono invadenti tornando a questa giacca ragazzi è spettacolare non vedo l'ora adesso chiudo la registrazione adesso vado in diretta su tiktok adesso vado in diretta su tiktok ci vediamo dopo ciao giorni schiavo designer stilista artista